Uno, due e tre! Oggi portiamo al compimento un percorso iniziato durante l'amministrazione del sindaco D'Alfonso, questa palestra in una zona sensibile della città, per cui voglio dire c'è grande soddisfazione da parte della nostra amministrazione, una palestra polifunzionale che potrà contenere una serie di attività sportive, scherma, ginnastica artistica, arti marziali, per cui una palestra fatta con tutte le nuove caratteristiche, le nuove normative, una palestra fatta di terrellotti funzionali, ognuno indipendente dall'altro, una palestra che si autoregge, perché voglio dire il riscaldamento e il raffreddamento verranno attraverso i pannelli solari e gli impianti di fotovoltaico, dotata di tutti gli standard migliori in questo momento, assolutamente funzionale, a due passi da via caduta del servizio, dove c'è grande sensibilità da parte di questa amministrazione e credo che interventi di questo genere siano importanti per migliorare la qualità della vita in queste zone. Pier Nicola Teodoro, il progetto di questa palestra di Fontanelle ha origini lontane, e quando lei era presidente di quartiere ci fu anche una disputa per quanto riguarda i fondi da investire, ma oggi è comunque una giornata di festa. Mi sono fortemente battuto per avere questa struttura, purtroppo nella scorsa legislatura furono tolti quasi 800 mila euro che furono portati al campo di Zanni e dei Colli per poter fare il manto sintetico, poiché l'amministrazione di allora ha ritenuto nella persona dell'assessore allo sport che era prioritario l'intervento sui due campi e non finire il completamento di questa struttura. Invece appena come siamo stati eletti con l'amministrazione Alessandini, questo è stato un impegno che ci siamo assunti con i cittadini e l'abbiamo mantenuto e dare la possibilità a tanti giovani di praticare sport e stare anche non per strada, perché qui è una zona poco asservita e con poche strutture, ma dare a loro una struttura idonea dove potersi incontrare, fare sport e stare anche bene.